È un periodo che mi sto chiedendo, ma ai testimoni di Jehovah cosa sta succedendo? Stanno proprio cambiando, stanno sradicando le loro radici. Adesso la barba si può portare, la gonna era particolarmente discutibile, adesso portano anche i jeans, cambieranno, cambieranno molto. Io faccio qualche previsione, io sono convinto del fatto che stanno preparando il terreno per sciogliere proprio il corpo direttivo. Alcune allusioni nelle loro riviste, tipo quel fatto che loro saranno rapiti, Jehovah li guiderà. Secondo me si stanno proprio trasformando, trasformano proprio la sostanza del loro discorso. E questo è un peccato, perché come dissi tempo fa ad un testimone di Jehovah della mia zona è finita l'epoca dei vecchi testimoni di Jehovah, un po' agguerriti, convintissimi. Adesso sono molto spenti, si stanno lasciando andare. Non sono più convinti di quello che fanno. Questo chiaramente è un mio personale pensiero. Loro da un lato scrivono, ad esempio, nel Perspicacia, quando dicono noi non cambiamo né annacquiamo il messaggio di Dio. E poi dall'altro lato, in una rivista, che ho citato comunque in uno dei miei video, dicono a proposito dei cambiamenti nel campo della liturgia cattolica, dice, ma come mai questi cambiamenti? Cosa spinge la Chiesa a cambiare, nonostante abbiano fatto sempre così nei corsi degli anni? Ma per favore, dai, guardati in casa tua, dai, su. E voi che ne pensate?